Ciao ragazzi, come vedete, porco dei capelli down, mi sono, a parte mi sono bagnati i capelli perché piove e mi dà fastidio, comunque, io porco dei capelli down, ho trascorso con voi questi 5-6 mesi, sono stati duri e mi sono presa delle pause, porco dei capelli down, mi sono presa delle pause per la mia salute, perché si stava compromettendo oltre e mi stavo stressando, a porco dei capelli down parecchio, però ho ricevuto, a parte i commenti per questa campagna, diciamo così, alla buona, di solidarietà verso e di informazione per la sindrome di turrette, porco dei capelli down, porco dei capelli down, ho conosciuto persone meravigliose che si sono affiancate a questo progetto, persone diciamo meno belle che mi hanno declassato, mi hanno insultato, mi hanno, magari non credendomi, potevano benissimo magari chiedere invece di insultare, però ogni persona è fatta così. Io questa sera vi volevo chiedere una cosa, a porco dei capelli down, io voglio parlare poco, voglio solo risposte, voglio risposte e porco dei capelli, vorrei che ognuno di voi scrivesse sotto questo video che cosa ha recepito di me in questi cinque mesi, porco dei capelli down, in questi video e che cosa gli ho dato, che cosa gli ho trasmesso e e che cosa sono stata per voi. Io vi abbraccio, vi saluto, poco dei capelli down e spero che ho dato qualcosa di buono. Un bacione a tutti.